La commozione del ricordo di Alfonso Ford nel tradizionale memorial dedicato all'indimenticato numero 10 bianco-rosso mescolate assieme alle emozioni del debutto della nuova VL targata Buscaglia per la prima volta nella Tana della Vitrifigo Arena. Il tutto pepato da una sfida al cospetto di una squadra di Eurolega come l'Alba Berlino. Tedeschi che vincono a Pesaro 75-81 al termine di una serata nel ricordo di Alfonso. Da un video commemorativo al presidente di A.L. Massimo Sierra che ha letto una delle ultime lettere di Ford inviate all'associazione fino all'omaggio della curva ad un campione indimenticato. Preambolo di una gara che ha visto la VL partire contratta prima di una buona reazione dopo l'intervallo. Noi non siamo partiti bene, onestamente, e siamo anche partiti emozionati. E io credo che sia bello anche questo, te lo dico. La prima partita in casa, non lo so, comunque abbiamo sbagliato due o tre appoggi da sotto. Onestamente non è stato un grande approccio. Tra l'altro nelle cose di energia come le palle vaganti, i rimbalzi, siamo mancati, dobbiamo dirlo. Quindi il lavoro è diventato quello di cercare con calma di ripartire da alcuni punti difensivi e offensivi perché se no la partita va a boh, invece no, bisogna ricompattarla. Secondo me abbiamo giocato un buon terzo quarto, dovete anche rapportarlo al primo tempo, insomma è stato talmente bruttino che è il terzo quarto. Secondo me abbiamo giocato un buon terzo quarto dove abbiamo avuto due cose sulle quali dobbiamo lavorare, sicuramente la transizione difensiva perché ci siamo accoppiati non sempre benissimo, e poi i rimbalzi, soprattutto quelli lunghi, degli angoli, quindi coinvolgo tutti in questa cosa perché l'hanno presi anche i piccoli rimbalzi, non l'hanno presi solo i grandi. Però abbiamo fatto un bel terzo quarto, secondo me abbiamo continuato con i piccoli errori a farlo anche nel quarto quarto, per cui devo dire anche che abbiamo avuto delle buone situazioni difensive a metà campo quando eravamo schierati e poi peccato per qualche tiro aperto, adesso dobbiamo ancora lavorare su alcune cose quando la palla è un po' sbasso, ma abbiamo anche fatto tiri aperti, ma onestamente siamo arrivati anche un po' stanchini, poi comunque sono usciti e fine. Però bisogna dare un po' ordine alla partita perché sono partite che ti fanno fare una grande esperienza e ti fanno anche vedere in ordine su cosa devi lavorare. Aspettando il debutto di Brescia del primo ottobre nello start del campionato, la VL fa i conti con le condizioni precarie di Banford, ancora assente e sottoposto a lavoro differenziato per un'altra settimana in cui il gruppo squadra punta a crescere ulteriormente di condizione. Noi stiamo bene, dobbiamo recuperare gli effettivi, essere un po' più lunghi perché ovviamente questo ci aiuta, però noi ci stiamo lavorando, anche stasera portiamo via delle cose che rifaremo, delle cose sulle quali lavorare, cioè sono cose, noi siamo sulla strada, anzi tra l'altro ti dico anche la verità, stasera era molto importante avere la capacità nell'intervallo di riattivarsi, cioè era molto importante dire ok, non è una gran partita, ok, il primo tempo ogni volta che eravamo lì c'è stato qualcosa per cui ci hanno ricacciato giù, dobbiamo tornare fuori a ripartire, capito? E noi secondo me siamo usciti bene dall'intervallo. Per la VL il Memorial è stato anche un suggestivo confronto con una squadra di Eurolega nutrita dalla stuzzicante presenza degli azzurri Procida e Spagnolo. Abbiamo giocato molto bene all'inizio della partita, soprattutto in difesa, poi Pessaro ha giocato meglio, abbiamo avuto problemi, fisicamente nell'ultimo quarto siamo andati un po' giù, ma comunque il spirito della squadra è stato molto buono, che hanno saputo come vincere la partita. Abbiamo creato un bellissimo gruppo, sono arrivato un po' dopo insieme a Gabriele, qualche altro per la Nazionale, però ci hanno accolti super bene, insomma il mood della squadra e della società è ottimo, ci porta a lavorare tutti i giorni duramente. Abbiamo un'altra adesso vicino a Bologna e poi finisce così il precampionato, il 28 abbiamo la prima partita a Heidenberg, quindi dobbiamo cercare di farci trovare pronti per quell'appuntamento.